e bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui con Ilaria e Federica e siamo qui in un labirinto di Ilaria non ho ancora visto l'abirinto, non voglio guardarla tra l'altro oggi che sto registrando è uscita Maxinconi quindi mi raccomando comunque e se riuscirò a vincere il labirinto otterrò in palio 170 gemme che posso utilizzare per qualsiasi skin mi pare e potrei anche prenderne due di skin perché se prendo Pipercioco è del brown quindi ho 170 gemme a disposizione per comprare queste skin ci dirò bene quale io che sono anche queste quattro qui e queste qui fisse quindi adesso giochiamo e speriamo di vincere Ilaria lo sa tutto perché ha creato la mappa Federica non sa niente interessante prendiamo subito il jump poi proviamo a controllare sto anche laggando proviamo a controllare le vie no, qui è chiuso intanto Ilaria ci dovrà seguire quindi controlliamo un po' tutto no, pure qui è chiusa non so se è chiusa anche c'è un teletrasporto però c'è una trappola sono un po' cieco io non so proviamo a prenderlo lo sapevo che era una trappola lo sapevo bene quindi usciamo subito perché non voglio vedere la soluzione cavolo lo sapevo che era una trappola ci vediamo ancora dai ce la possiamo fare ok mi proviamo il jump quindi prossima partita qui sopra niente tra la parte di prima non mi ricordo dove portava questo rosso avete trovato la soluzione se avete fatto caso giusto no, ancora con lo stesso con lo stesso metodo sono morto sempre così prossima partita ce la devo cuore laggo pure questo labirinto è difficile allora ho visto qui sopra non c'è nulla se vado qui e qui ma io torno indietro ma io torno indietro ma ancora non c'è niente non è possibile niente da fare è bene ragazzi non so perché non ci riesco ho le win two in due possibilità dai ce la devo fare però non devo laggare ce la devo fare allora allora qui abbiamo visto che non è però aspetta un attimo aspetta un attimo ragazzi ho visto una cosa ma qui è aperto e se provassi no laggo ecco la soluzione eccola ok l'ultimo tentativo ho capito ho capito ultima partita ho capito tutto ragazzi l'ho capito scusate se vi attacco ragazzi non devo laggare aspetta questa era la parte di sopra di prima oddio non ci credo era tutto qui è sempre stato qui da tutto il labirinto è sempre stato qui non ci credo ho vinto ragazzi è sempre stato tutto qui ma ma come ho fatto a non accorgermene questa era la mappa vista dall'alto e comunque quell'altra soluzione l'avevo capita si sapeva che era là qui raga non so se è lecita questa cosa ma Ilaria ha modificato la mappa e c'era un'altra via prima che non avevo visto che dobbiamo trovare anche quella poi mi manda su Gerimetti in chat mi ha detto ogni cassa che trovi vuol dire che sei vicino e se ci sono dieci casse hai vinto non lo so non ho capito eccoci ragazzi siamo dopo questo taglio sono riuscito a chiamare Ilario quindi adesso siamo con Ilario e prima cosa devo ricaricare le gemme ragazzi elaborazione in corso pagamento riuscito come non detto ciao ciao dieci euro ecco qui oddio 196 gemme potrei già sciopare il pass ma ecco ce l'ho già e con queste gemme non scioperemo delle soglie ma delle skin sono indice se scioparmi Maxine Connie Iris Sally o se mi prendo Penny Pasqualina e il brown e il pipercioco tutto in una botta perché ci riesco o la skin di Pam non lo so sceglierò tra poco pipercioco sicuramente me la prenderò quindi Ilario che dici visto che mi prenderò più skin la prima parte dell'abirinto l'ho completata quindi posso scioparmi pipercioco sì ho sempre sognato fare questa cosa tre due uno ed ecco pipercioco oh mio dio non pensavo che l'avrei mai fatto ma l'avevo detto che la scioppavo Ilario dove sei Ilario non sei online non ci porto piper al 24 porto piper al 24 non pensavo che l'avrei mai fatto ma l'ho fatto sì allora mi rimangono 166 gemme potrei prendermi la skin di Pam e Penny Pasqualina o la skin di El Primo e Penny Pasqualina o Barry il Mascot perché le altre non si riesco sarà dura difficile ma adesso Ilario ci deve far completare l'ultima parte del labirinto se ci riesco mi scioppo le skin ebbene ragazzi finalmente ho pipercioco e guardatela ero ero indeciso se sciopparmi solo Maxinconi o Iris Sally ma se mi sciopavo Maxinconi o solo Iris Sally solamente una skin mi guadagnavo invece così ne posso prendere molte di più eccoci raga vorrei prima provare i pipercioco Ilario ha dato delle modifiche alla mappa oh mio dio allora qui c'è una cassa e mi ha detto Ilario che quando c'è una cassa sono vicino anche se ho appena iniziato non credo ehi Lalo dov'è l'obiettivo come si fa a capire che ho vinto ci sono 12 casse peste tutte quanti insieme Ilario ma stanno nell'angolo della mappa io non ho visto 6 qua ce ne sono 6 si ma devi arrivare lì perché era così facile no ma sono all'angolo qua dove sta lo spawn delle jump sono lì si però devi arrivare lì e c'è un metodo gli ho presi tutti i power up perfetto no li ho presi stavano nell'angolo a e adesso sinistra destra ma quale destra non so se è destra o sinistra rifacciamo mi serve morti se ho capito aspetta forse forse lo mi trovo aspetta ora provo a capire ecco fatto ho sbagliato star power ma vabbè ila ha applicato una piccolissima modifica ila ma le casse no non sono qui qui c'è una cassa sono vicino tre casse non lo so tre casse vuol dire che sono lontano oh però non si capisce qua chiuso porca c'è soltanto un metodo stavolta pensavi che fosse così facile l'altro che se le donne di casse si distruggono hai perso no no ho perso solamente se muoio perché sennò è impossibile è gazzalcacchio qua è chiuso eh lo so infatti credo che stai per morire stiamo per morire no laggo no scusate però non vale oh oddio io forse muoio resisti resisti uno piatto so vivo per il miracolo io stavo laggando però l'hanno visto tutti quanti dove stai a morire come morire usa la jump come hai fatto a morire sono andato nel teletrasporto giallo col teletrasporto giallo non avevo messo la star power del turbo a scatto te ti ricordi prima dell'affirizzo il troll del teletrasporto giallo e rosso no hai visto che ho cambiato posizione sì ma forse verrà meglio farlo in un altro video va bene ma te hai cinque tentativi ricordate mi hai spiegato uno e non hai ancora capito niente eh non è difficilissimo ci puoi arrivare se ragioni ci posso arrivare ci posso arrivare ti aiuto ma te cosa è successo stavo per morire ok se non bevo per miracolo non si sa come voglio un attimo attivare la webcam ma te ma dove sei sto attivando la webcam no sono morto guarda ma cosa è successo stavo attivando la webcam sono morto ma io ti sentivo aprire delle casse aprire delle ma non è vero ok perfetto comunque ti voglio dire che tre casse vuol dire che sia abbastanza lontanuccio ok è lontantissimo però sei lontano se è una casa andiamo avanti andiamo avanti metti pronti dai metti pronti nel frattempo se trovi tipo tipo un sacco di casse di messenze vuol dire che sei strano capito però sto laggando e tu metti dove vai qui ok ti sento cerca di non ammazzarmi allora sono andato sotto ma non va bene quindi provo ad andare qui perché uso la mira automatic oh ce l'ho fatta sono queste 12 casse si che cacchio fa bella fantastica ti piace? vabbè quelle emoji che hai trovato ce l'ho fatta ti è piaciuta questa mappa? si carina quindi adesso che l'ho finalmente completata posso vedere la premiere ah sì in effetti si capiva se la guardavi raga vabbè nel negozio ho scelto pam da spiaggia perché con il primo poi ho troppe gemme cioè ho nove gemme in più e non mi sembra il caso se c'erano le mega casse poi ho preso le mega casse pam da spiaggia tre due uno l'ho presa l'ho presa pam da spiaggia no per tre gemme non riesco a prendere Penny Pasqualina e vabbè ma però comunque tra tre soglie mi riesco a prendere tre gemme no aspetta un attimo il problema è che Penny Pasqualina rimane fino a domani invece va così in coro dove fino a domani ah fino a domani non ci credo che l'ho fatto non ci credo che l'ho fatto pam da spiaggia se non ce l'avessi fatta sarei impazzito se la mappa è un po' bruttina non aveva mai creato un labirinto se volete altri labirinti allora altri minigiochi così sfide per qualcosa ma hai detto tu che la mappa è bruttina o ho detto se pensate che la mappa è bruttina no l'ho detto quindi lasciate like se volete altri labirinti altri minigiochi creati dell'ario anche perché stavolta la ricompensa è stata veramente molto molto gustosa ma davvero tanto eh cioè adesso ragazzi il mio obiettivo è ma che cos'è quella piper normale anche io vorrei una schida c'è energetica in offerta posso comprarmi i pelli ma scuola cosa che hai detto c'è energetica in offerta non credo di capire è meglio così c'è energetica 170 è strano che non è 169 con lo sconto di uno batti hai finito il video no ok perfetto quindi ragazzi il mio obiettivo vi stavo dicendo è avere una skin bella per ogni brawler ad esempio colt io di colt anzi tutti hanno questa skin fuori legge però si compra easy cioè si fanno subito i punti stellari all'inizio del gioco per comprarla questa skin farò rosicare Matteo ah lo stecca brigante non ce l'ho io lo stecca brigante però potrei comprarmi il re stecca lo stecca che ne sai tu poi sei tu a rosicare bella tipo di scelli ragazzi mi sto conservando qui dell'oro qui perché voglio comprare i scelli argentea ci riuscirò sicuramente perché manca pochissimo mancano duemila di oro quindi ragazzi se volete che faccio la challenge per sbloccare scelli argentea ho già preparato una ruota vi ho spoilerato troppo di nita mi andrebbe bene anche la nita panda di colt mi dice tantissimo non aver preso lo sfidante però comunque c'è il corsaro che dovrebbe tornare tra poco oppure anche colt guardia imperiale bellissimo oppure quale altra skin di colt c'era colt guardia imperiale e l'ho appena detta colt guardia imperiale colt rockstar anche colt rockstar andrebbe bene di bull ho due skin va benissimo così con bull di jessie anche l'alena draghi andrebbe bene però no dai di jessie va bene l'alena draghi stessa cosa per brock per il super ranger e stessa cosa per dana mike per bull mi piacerebbe avere il diabolico anche perchè o mi compro diabolico 150 o mi compro orus 150 o mi compro mecha 300 gem quindi il rick c'è solo il re granchio lo prenderò l'ottobit va bene anche il vintage di emz non so se prendere un'altra skin ma ci sta solamente quella fan sfegatata e poi quelle oro e argento di el primo volevo prendermi il brown mi andava bene però di bombardino va bene lo stregone di pocio va bene lo star di rosa devo prendermi il brawling di stecca prenderò la guardia di beryl vorrei tantissimo il raviolone di penni come io che ho appena messo tra pochissimo potrò prendermi i penni di pasqualina perché basta fare tre soie e dieci gemme di carl vorrei lo spericolato di jacky non mi piace molto l'operaia credo che mi prenderò la perfora tutto di piper a posto così di piper veramente a posto così sono soddisfattissimo anche di pam mi va bene raga raga voglio farvi una sfida se in questo video raggiungiamo i 15 like matteo mi fa un escape room e se la vinco in 5 tentativi mi regala il pass vai ci sto ci sto tocca a voi spolliciare sapete qual è il trucco mi piace con il suo account con quello di federico con quello di suo padre suo padre voi spolliciate di frank mi andrebbe bene anche il cavernicolo in realtà costano 80 gemme frank cavernicolo e frank dj quindi preferirei il dj di bibi voglio zombibi bibi eroica è bella ma costa troppo e poi è limitata bea coccinella non mi piace molto che prenderò la scarabia che mi prendo tutte le skin della stagione 2 di iris voglio quella selly o la retro non mi va bene mortis vabbè c'ho il predone va benissimo quella tortina di tara non mi piace cioè è bella però comunque quella ninja urbana è bella ma preferisco va bene con tara con eugenio mi piacerebbe anche il corsaro non c'è bisogno proprio del malvagio di maxin voglio maxin casual o maxin coni di mr p c'è solo l'agente p quindi l'agente p di semino non so perché è bello semino tropicale però preferirei semino lunare e poi vabbè di gelindo ho la skin energetico ho la skin colletto ho la skin lulo ho sbloccato da poco guardate questo emoticon che ho sbloccato da poco quindi ragazzi video finisce qui spero che vi sia piaciuto e spero che e spero che si sia pubblicato perché ho speso 10 euro e spero si sta bloccando tutto e spero che si sia pubblicato perché per rifarlo dovrei aspettare un altro mese praticamente quindi ragazzi da me è tutto e anche da Ilario eh sì eccomi sono ancora vivo sei ancora vivo dici qualcosa prima di lasciare il video allora raga mi ho fatto la sfida se raggiungiamo i 15 like succede quello che ho detto però non la faremo subito perché ma non scioppa così tanto però scioppo quindi ragazzi dipende se raggiungiamo i 15 like se non li raggiungiamo però ovviamente non faccio nulla di tutto ciò quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando eh queste cose le sto facendo per voi quindi iscrivetevi al canale attivate la campanellina e così ricevete le notifiche su tutti i video che usciranno e fate come Ilario che è un grande fan che attiva la campanellina e guarda tutti i video subito evidente perché lui sa quando li pubblico vabbè detto questo si sta bloccando tutto tutto io continuo a vedere Pepper ciò che mi illumino ciao sta bloccando io Grazie a tutti.